Cinque locali pubblici del Padovano chiusi per cinque giorni dai carabinieri dei NAS per violazioni alla normativa anticontagio da Covid-19. Le chiusure, già scontate perché ordinate domenica scorsa, 4 ottobre, hanno riguardato il bar pizzeria Galleria in Audi e il kebab Alibaba di Monsedice, il ristorante Gallo d'Oro di San Giorgio delle Pertiche e le pizzerie Pixas e Stuzzico di Padova. In questi locali i carabinieri avrebbero rilevato la mancanza di informazione ai clienti, la mancanza di prodotti igienizzanti, l'inesatto distanziamento tra i tavoli e le persone, la carenza di igiene. Chiusi per la stessa durata altri tre bar del Rodigino. Le prefetture hanno la facoltà di prolungare la durata della chiusura fino a 30 giorni. I controlli eseguiti dai NAS nella scorsa settimana in bar, pub, pizzerie, kebab, ristoranti e trattorie nelle province di Padova, Rovigo, Vicenza e Verona sono stati 52. I carabinieri del nucleo antisofisticazione hanno elevato 13 multe da 400 euro per il mancato uso della mascherina da parte di gestori, clienti o dipendenti. Altre 14 multe anti-Covid sono state combinate dalla polizia di Padova da altrettanti giovanissimi, di cui tre minorenni. I ragazzi, segnalati da cittadini e residenti del Liston, stavano nella zona dell'edificio della Banca d'Italia della Galleria che porta in Via Roma. Erano ragazzi, alcuni minorenni ed altri tra i 18 e i 20 anni, privi di mascherine ed erano tutti assembrati l'uno vicino all'altro e creando quindi dei seri pericoli proprio per il contagio. Continueremo appunto, come dicevo, controlli proprio per evitare assembramento di persone prive di mascherine. Tra i multati dalla questura ci sono anche due fratelli, i cui genitori dovranno quindi pagare ben 800 euro.